video ripresa in full hd con lenovo a806 abbiamo scelto messa a fuoco continua vediamo un pan veloce andiamo a mettere a fuoco un attimino di pazienza ok diciamo che non è proprio rapidissimo ma funziona bene andiamo a inquadrare la nostra nea affamata devo dire che la messa a fuoco a video non è niente niente male proviamo a allontanarci ci riavviciniamo vuol dire che mantiene un buon fuoco ok